Finizio, si chiude l'1-2 con Pavone che tenta di saltare Scognemillo e ci riesce, poi scivola il 27, la chiusura di Cinelli e il rilancio di Van de Putt nella metà campo della Fidelis dove non c'è nessuno in maglia rossa, attacca adesso Cianci, Polverino rischia il portiere, perde il pallone, Cianci lo porta via, due passi dentro l'aria, Cianci! 4-0 per il Catanzaro, il gol di Pietro Cianci, si è suicidato letteralmente Polverino ed è stato punito, 4-0 il gol di Cianci. E Cianci poi si fa tutto il campo per andare ad esultare con il tifo caldo giallorosso. Entra e segna Pietro Cianci, una costante di questa stagione per il 99 e qui è stato bravo a non mollare Polverino che però è andato incontro alla peggiore delle situazioni possibili. Adesso viene anche richiamato dai suoi compagni di squadra. 4 minuti alla fine del match, 4-0 per il Catanzaro.